carissimi amici del canale youtube dentro la notizia ieri domenica romano prodi ha espresso il suo pensiero probabilmente condiviso da altri nel pd in un editoriale sul messaggero intitolato romano prodi propone una coalizione orsola due congressi e un conclave per costruire un esecutivo ho voluto evidenziare in questo video solo le dichiarazioni che credo siano più importanti perché mettono in luce un probabile tentativo di alcuni di dirigere le cose sia in politica interna che estera legasi unione europea vi prego di riflettere su quanto dice il professore e commentare numerosi ho volutamente evitato ogni commento per non condizionare nessuno in questa delicata ma importante faccenda la prima osservazione riguarda il fatto che anche se il ritorno alle urne non è di per se stesso una patologia deve essere considerato un ultima razio essendo il parlamento chiamato a durare per l'intera legislatura la fine prematura della legislatura è il riconoscimento di un fallimento una ferita inferta alla vita democratica bisogna quindi fare il possibile per evitare tale evento preparare le basi di una maggioranza costruita attorno ad un progetto di lunga durata sottoscritto in modo preciso da tutti i componenti della coalizione un esercizio di questo tipo come ho già più volte messo in rilievo nei giorni scorsi è stato messo in atto in germania si dirà che l'italia non è la germania ma la necessità di un tentativo di questo tipo è maggiore a roma che a berlino perché non solo noi ma tutti i nostri amici stranieri si stanno chiedendo cosa faremo in futuro poiché le tensioni nel governo per ora in carica sono divenute ingestibili solo dopo la divisione fra lega e 5 stelle sul voto europeo è chiaro che l'accordo deve prima di tutto fondarsi sul reinserimento dell'italia come membro attivo dell'unione europea forse bisognerebbe battezzare questa necessaria coalizione filo europea orsola cioè la versione italiana del nome della nuova presidente della commissione europea in secondo luogo deve essere un accordo duraturo non per un tempo limitato ma nella prospettiva dell'intera legislatura perché questo sia credibile è innanzitutto necessario che contenga in modo preciso e analitico i provvedimenti e i numeri della prossima legge finanziaria gli italiani non sono angosciati solo dalle migrazioni in entrata in uscita e il problema deve essere riesaminato insieme ai partner europei sia per l'aspetto dell'accoglienza sia per quello dell'inserimento tutti noi abbiamo anche una crescente paura di essere sempre meno garantiti nel campo della scuola e in quello della sanità tutte queste paure sommate assieme stanno disgregando l'italia non ho la minima idea di come possa svolgersi un congresso dei 5 stelle perché sono cresciuto con la convinzione che per confrontarsi sia necessario almeno guardarsi in faccia ma ho un'idea ben chiara sulla necessità di aprire un dibattito nell'ambito del partito democratico così che la posizione prevalente possa portare avanti in modo credibile e fermo le decisioni prese senza che esse vengano continuamente messe in discussione anche ponendo sul tavolo ipotesi di scissione mi sto accorgendo infatti che questa incomprensibile crisi insieme a tutte le preoccupazioni e le paure che suscita sta risvegliando in tutto il paese un'attenzione alla politica che sembrava ormai appartenere al passato così si conclude l'editoriale di prodi come dicevo questo video contiene solo le frasi secondo me più significative sulle quali riflettere ma ho evidenziato ulteriormente alcuni passaggi chiave nelle immagini sui quali ritengo utile che vi esprimiate liberamente ma in maniera costruttiva per il bene di tutti iscrivetevi numerosi al canale youtube dentro la notizia aiutatemi a diffondere i video e sostenete il nostro lavoro nell'interesse collettivo un abbraccio dal vostro robbie